forte potente affidabile ecologico e capiente vi presento il mio nuovo compagno di viaggio il nuovo daily di Iveco dietro ogni prodotto Iveco incluso il mio compagno di viaggi il nuovo daily c'è una grande passione e vi voglio portare a conoscere chi li produce abbiamo visto la produzione del nuovo daily adesso andiamo al motor show di Bologna direi eccoci arrivati a Bologna al motor show dove metteremo in bella mostra i nostri daily musica 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 con questa esibizione in pista i nuovi daily sono pronti ad affrontare un tour europeo alla ricerca del nuovo protagonista del mondo del lavoro che sceglierai tu su facebook seguite musica 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 musica